Il volante di una Formula 1, oltre a svolgere le normali funzioni di sterso, è l'interfaccia principale per il pilota con tutto il sistema elettronico della vettura. Rear flap, per attuazione di RS. K1, pulsante strategico per migliorare funzioni distribuite tra motore e RS. Neutral, desinnesca le marce. Pit limiter, velocità massima 80 km orari. Diffin, differenziale, regola rotazione indipendente neumatici e trazione in curva. Brake balance, distribuzione pressioni frenata tra anteriore e posteriore. Torque, selezione delle mappe di coppia per maggior accelerazione in uscita curve. State of charge, gestione stato di carica, pacco batterie. Multifunction, simile ad un menu per selezionare varie strategie legate alla gestione motore, sistema airs e brake balance. Strat, gestione strategie dei motori elettrici per regolare l'erogazione della potenza. Fuel, gestione strategie di benzina per consumo e prestazioni. Radio, per comunicare con gli ingegneri di gara. K2, simile al K1, un pulsante quick change per strategie legate all'erse. Detonation, pulsante per quick change strategie motore. Più 10 e meno 10, selezione strategie presenti sul multifunction. Ok, conferma ricezione messaggi. Pump, pompa olio motore. RF, pulsante di recovery per RF. BPOK, procedura di autoapprendimento legata al punto di attacco della frizione. Burnout, limitatore più basso per favorire patinamento ruote. Start, selezione mappe di coppia partenza e pitch stop. Wet, reimposta tutti i parametri per condizioni di bagnato. Nel 2013 i piloti effettuavano tre cambiamenti sul volante in media al giro. Nel 2014 circa il doppio. I piloti possono visualizzare una serie di informazioni sul display a colori. Il volante controlla il cambio. Ci sono otto marce più la retro. Si fanno circa otto volanti all'anno e ogni pilota dispone di una versione personalizzata per il posizionamento dei vari comandi. Il materiale usato è il carbonio e il peso è di circa 1.5 kg.